Buona domenica a tutti, questa sarà una review di pennelli, non un film porno, dei pennelli che sono a mio avviso fantastici, sono due set, questi e questi, allora comincio parlandovi di questo set, questo set vi arriverà in questa pochette, borsetta di pinta pelle di plastica, come avrete capito questi pelle di sorve della FROI là in 38, si dice FROI perché è la A e la U insieme si dice OI, in questa appunto pochette nera, con qui il posto per mettere i vostri pennelli, anche di qua, mentre qui in mezzo c'è questa altra pochettina, in modo una triosca, dove ho messo dentro tutte le varie plastichine che proteggono i pennelli, che può essere anche tolta, no? Ci sono questi due bottoni, vabbè comunque, questo set vi arriverà in questa pochettina, il set si chiama 10 pezzi top quality brushes set, ora ve ne parlo uno per uno, cominciamo da questo che è più grosso, questo, come vedete, è fatto in questa maniera, io lo uso per il fondotinta, e devo dire che la stesura del fondotinta con questo, come vedete anche abbastanza rigido, le stesure sono morbidissime, quindi non pizzica, ma facendo così è comunque compatto, cioè non è che si schiscia, la stesura del fondotinta con questo pennello è una cosa micidiale, passiamo all'altro, l'altro è questo, ed è fatto così, questo penso che vada bene, penso perché come ho già detto, io li uso come voglio io, è morbidissimo, veramente, questo io uso per il contouring, perché essendo piatto fa benissimo per il contouring, è molto morbido, quindi sfuma perfettamente, per la polvere sì, potrei usarlo anche per quello, però io mi trovo perfettamente usandolo per il contouring, quindi questo è un altro pennello, morbidissimo, veramente, io dei pennelli così morbidi, non l'ho mai avuti, quindi questo per il contouring, poi questo, morbidissimo, questo è una cosa fenomenale, questo io lo uso per la polvere appunto, essendo anche questo con una superficie abbastanza grossa, e non dico piatta, ma quasi, va benissimo usato così, logicamente potete usarlo anche strusciandolo, però se volete un effetto no pori, diciamo, dovete tamponarlo in questa maniera, e questo è un ottimo pennello da usare per questo scopo, passiamo all'altro, ecco questo, questo non l'ho ancora usato, è logicamente un pennello da fondotinta, non l'ho neanche ancora usato, perché io penso che questi pennelli, con questa forma, siano adatti per il fondotinta in crema, il fondotinta in crema non ce l'ho e non lo uso, quindi, boh, sicuramente andrà bene anche con quello liquido, però preferisco decisamente questo a questo, per la sesura, no? comunque è un buonissimo pennello, morbidissimo, settore abbastanza rigide da non spetacciarsi, però logicamente con il fondotinta, cioè non è che deve apparirsi in 50, non so dire se lascio a strisce, perché appunto non l'ho ancora usato, comunque mi sembra abbastanza buono, nell'utilizzo non ne ho idea, ecco questo, io sinceramente non capisco a cosa possa servire, io oggi l'ho usato per fare la sfumatura qui, ma logicamente non è che tutti i giorni la gente va in giro in questa maniera, quindi, boh, questo l'ho usato penso per mettere la, per fissare il correttore qui sotto, che ne so, qui per fare dei dettagli, sinceramente non capisco, se qualcuno ha questo set mi dica cosa lo utilizza per cosa appunto, io oggi in italiano l'ho lasciato nel cassetto, i pennelli da ombretto, questo, è un buonissimo pennello, infatti continuo a usarli, veramente, li ho da pochi giorni, continuo a usarli, perché è un piacere truccarsi con questi pennelli, le sotture sono abbastanza dure, morbidissime, dure nel senso rigide, non che pungono, no, spero che di essermi ispirato, è morbidissimo, come vedete, ritorna sempre alla, nella sua forma, non si, non diventa mezzo marcio, un pezzo che va di qua, un pezzo che va di là, no, ed è veramente un buon pennello per ombretto, però il mio preferito è questo, cioè veramente, a parte che toccarlo è un piacere, ed è un altro appunto pennello d'ombretto, un po' più cicciotto rispetto all'altro, che è un po' più piccolo, questo è stramorbido, veramente, è una cosa micidiale, va benissimo per sfumare, essendo cicciotto, va benissimo per sfumare, questo è veramente il pennello da avere, eccolo, la nota dolente è questo, questo dovrebbe essere un pennello d'eyeliner, ma vorrei farvi notare quanto cazzo è grosso, guarda il fatto che è veramente durissimo, sembrano le setole dei spazzolini da denti, no, è veramente troppo grosso, cioè anche a schisciarlo, non riesco a toccarmi le dita, quindi io questo lo boccio assolutamente come pennello d'eyeliner, pennelli da labbra, che io uso per ombretti, no, questo forse è anche per ombretto, non lo so, questi hanno il tappino, non so spiegarmi per quale motivo, e dovrebbero essere da labbra, c'è questo, che io uso puntualmente per mettere l'ombretto sotto l'occhio, o meglio sotto le ciglia inferiori, e quest'altro che è appunto piccolissimo, e dovrebbe essere appunto per labbra, per contornarle, eccetera, però io penso che vada benissimo anche per gli occhi, questo non l'ho ancora usato, niente, questo è il primo set, vi lascio, vi metto il nome comunque in sovrimpressione, dove potrete leggerlo, devo dire che è un ottimo, 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 ottimo set, lo adoro. Il secondo set, del quale non vi parlerò molto, è questo, che sarebbe fondamentalmente per nail art, infatti si chiama 12 pezzi nail art painting brush set, solo che io logicamente mi piace la nail art, adoro guardare video di nail art, solo che sinceramente non lo farei mai, perché la pazienza non è il mio forte, però l'ho preso appunto, perché essendo dei pennelli talmente fini e sottili, da usare appunto per, li ho presi da usare per i dettagli, per fare qualche trucco strano, per ora non li ho usati molto, ne ho usato un paio, ora per fare le sopracciglia, vi dico subito quale, ed è questo, angolato sottissimo, ho usato per le sopracciglia e vado a giro, e poi ho usato questo, nel mio ultimo tutorial, per fare, per metterle rane, questi sono buonissimi, quindi io vi faccio vedere se foste interessati magari per fare nail art o blabate, gli altri per meglio, che io non ho usato, quindi non so dire più neanche, perché hanno uno scopo, io li uso per uno scopo diversamente da quello che hanno, l'ho accettato oggi, guarda un fatticato perché c'è, per quanto questo l'ho usato per metterle rane, devo dire che è perfetto, poi c'è questo che è stupendo, io penso che per la nail art siano buonissimi, anche questi non si spormano usando, quindi penso che come qualcuno di due attività e gli smarti non si non si spormano su, ma veramente, non so di caso per metterle oggi, per metterle molto scena, e questo, ci sono veramente piccolissimi, per metterli sottili, non li ho mai, non li ho mai trovati, anche l'andoli, ne ero uno di stanno davanti, che era tipo questo, un po' più sottile, e l'andolo è diventato il doppio, c'è adesso questo invece è un doppio in tool, ha presso completamente la sua forma, è diventato un po', invece questi no, c'è nulla, neanche questi, allora devo dire che ho un po' di pediglia non persa, meglio voglio dire, qua è meglio, non prende pediglia, non so, quindi io voglio dire, qualità ottima di questi due set che ho scelto io, questo set è veramente da avere, costa una cazzata, cazzata, meno di 15 euro, quindi vorrei dire, vi arriva anche nella vostra bella pochettina da portare in vacanza, ottima qualità, quindi vi lascio il link del loro sito, fanpage, facebook, eccetera, nell'info box, dateci un'occhiata, magari ci sono anche dei saldi, io adesso non lo so, comunque questo set è veramente ottimo, quindi niente, se avete domande chiedete, e niente, buona domenica, buon inizio settimana, ciao ciao! Grazie! 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 Grazie!